Pronto? Sì, sono Valentin, l'assistente personale di Maria. Maria Ender! Plaus è qui. È un grandissimo regista. Incontralo, ti prego. Ho interpretato Sigrid in Maloia Snake quando avevo 18 anni. Poiché sei stata Sigrid, solo tu puoi essere Elena. Chi interpreterà Sigrid? Joanne Ellis, a 19 anni. Io farò la parte di quella che la spinge a suicidarsi. Penso che sia la mia attrice preferita. Ti piace più di me? Sei gelosa? È coraggioso da parte tua accettare il ruolo di Elena? Affrontare il tempo che passa? Non sono i conti a tenerti sveglia la notte. E allora cosa? Il desiderio. Per me, credo. Joanne! Te ne sei andata senza neanche guardarmi. E allora? Il tempo passa e lei non lo accetta. Nemmeno io credo. E allora? Mi ricordo. Grazie a tutti.